RISING TEAM Progettato e prodotto in Francia, la Coupé a due posti a motore centrale presenta una struttura in alluminio per mantenere il peso al minimo e sofisticate sospensioni a quadrilatero. La 110 Premier Edition è alimentata da un motore a benzina a 4 cilindri da 1,8 litri turbo compresso che sviluppa 252 CV, come tutte le alpin e a trazione posteriore. Limitata a 1955 esemplari, chiaro riferimento all'anno della fondazione dell'Alpine, la 110 è stata interamente prenotata in soli 5 giorni dalla messa in vendita. La produzione di serie seguirà a breve. Primo nuovo modello, dopo due decenni, la 110 segna il rilancio di Alpine. Concepita come unità autonoma all'interno di Group Renault, Alpine ha una strategia ambiziosa a lungo termine, che richiama la visione e la determinazione del suo fondatore, Jean Redelet. Oltre ad avere un ricco patrimonio nella costruzione di auto sportive leggere e agilissime, soprattutto sulle tortuose strade di montagna, l'Alpine è anche nota per aver corso al più alto livello del motorsport internazionale. Le sue glorie includono la conquista del titolo del World Rally Championship del 1973 e la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans del 1978. E' in quello stesso spirito che oggi Alpine compete nelle gare endurance internazionali. Il suo programma FIA LMP2 World Endurance Championship mostra l'ambizione e l'impegno del marchio nei confronti del motorsport. Novità per il 2018 sarà la Coppa Europa per le Alpine Cup, recentemente annunciata, che sarà gestita dal partner Corset Signetec, a dimostrazione delle prestazioni della Coupé e dell'impegno di Alpine nei confronti dei clienti sportivi. Michael Van der Sande, amministratore delegato Alpine, commenta E' un enorme privilegio rilanciare un marchio che trasmette una tale passione, ma anche una grande responsabilità. Questa passione per l'Alpine, sia all'interno di Group Renault che tra gli appassionati di auto sportive, è enorme. E' stata un'ambizione lunga e difficile, quella di far rinascere il marchio, ora è il momento giusto. Con la nuova 110 Premier Edition abbiamo preso i principi fondamentali che hanno reso Alpine un successo negli anni 60 e 70, come dimensioni compatte, peso leggero e un baricentro molto vasto, e li abbiamo implementati con tecnologie moderne. L'auto è un vero piacere per guidare su strade di campagna o in pista, ma anche molto comoda da guidare ogni giorno. La mia missione sarà portare l'Alpine a riferimento fisso nel segmento delle auto sportive.